Anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, interviene sull'apertura della 71esima mostra del Cinema del Lido. Io spero che sia un'ottima edizione, anche perché voglio ricordare che l'indotto che porta a questa mostra è un indotto importante, magari distante dalla percezione di molti veneti, però da visibilità al nostro territorio ci permette di comunicare e di far turismo. E questo è quello che è bene sottolineare, dopo ovviamente a tutto quello che è la produzione artistica e la nuova produzione cinematografica che verrà comunque presentato durante questa mostra. Di sicuro l'evento diventa vetrina attraverso cui tutto il mondo guarderà la città lagunare, commissariata, reduce dallo scandalo del Mose e colpita dal degrado per il pesante impatto del turismo senza controllo e talvolta non curante che si riversa quotidianamente su Venezia. Primi eventi a partire da martedì con le feste in riva degli schiavoni, poi l'arrivo del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il trasferimento sull'isola per le proiezioni, l'incontro con la stampa e il bagno di folla e di sicuro non mancheranno i colpi di scena.